Assassinio sull'Oriente Express. Parte prima. I fatti. Capitolo I. Un importante passeggero sul Taurus Express. Erano circa le 5 di una mattina d'inverno, in Siria. Lungo il marciapiede della stazione di Aleppo era già formato il treno che gli orari ferroviari internazionali indicavano pomposamente con il nome di Taurus Express e che consisteva in due vetture ordinarie, un vagone letto e un vagone ristorante con annesso cucinino. Vicino alla scaletta di uno degli sportelli del vagone letto, un giovane tenente francese splendido nella sua uniforme conversava con un omino imbaccuccato fine alle orecchie e del quale erano visibili solo il naso arrossato e le punte di un paio di baffi arrinciati all'insù. Faceva un freddo cane e quell'incarico di accompagnare alla stazione un distinto straniero non era davvero invidiabile, ma il tenente Dubosch lo eseguiva con virile coraggio. Frasi gentili gli uscivano di bocca in un francese forbito e benché fosse completamente all'oscuro di certi fatti accaduti, aveva tuttavia sentito delle voci che accennavano a una misteriosa faccenda. Il generale, il suo generale, era apparso negli ultimi tempi sempre più pessimo di umore. Poi dall'Inghilterra era giunto quello straniero, un belga, a quanto si diceva, e al suo arrivo era seguita una settimana di curiosa tensione negli ambienti militari. Erano accadute strane cose, un distintissimo ufficiale si era suicidato, un altro aveva presentato le dimissioni, visi ansiosi e preoccupati erano di colpo divenuti sereni e certe precauzioni militari, piuttosto severe, erano venute meno rigorose. Quanto al generale, si sarebbe detto che all'improvviso fosse ringiovanito di dieci anni. Dubosch aveva sentito per caso parte della conversazione tra lui e lo straniero. «Lei ci ha salvato, Moncher», aveva detto il generale, con la voce rotta dall'emozione e i baffoni canditi che gli tremavano mentre parlava. «Lei ha salvato l'onore dell'esercito francese! Grazie a lei è stato evitato un enorme spargimento di sangue! come posso fare per sdebitarmi?». A queste parole lo straniero, il cui nome era Hercule Poirot, aveva risposto «Crede forse chi abbia dimenticato quella volta in cui mi salvò la vita?». In generale, allora, aveva detto che quell'episodio apparteneva al passato, che lui non ne aveva alcun merito e che dopo qualche ulteriore allusione alla Francia, al Belgio, alla Gloria, all'onore, a un mucchio di altre cose simili, i due si erano abbracciati affettuosamente e la conversazione era finita lì. Che cosa fosse effettivamente accaduto, il tenente Dubosch non lo sapeva ancora. Era stato incaricato di accompagnare il signor Poirot alla stazione, dove avrebbe preso il Taurus Express, e lui ubbidiva con lo zelo e con l'ardore che si convengono a un giovane ufficiale che ha davanti a sé una promettente carriera. «Oggi è domenica», disse a un certo punto. «Domani sera, lunedì, lei sarà a Istanbul». Non era quella la prima volta che diceva la stessa cosa. La conversazione che si svolge sul marciapiede di una stazione, tra chi parte e chi rimane, è soggetta a una serie di ripetizioni. «Infatti», convenne il signor Poirot, «e ha intenzione di trattenersi là qualche giorno?». «Me oui, non ho mai avuto occasione di visitare Istanbul. Sarebbe un vero peccato attraversare Comanza». Schioccò le dita con un gesto significativo. «Non ho nessuna fretta, voglio fare il turista per qualche giorno». «Ah, la moschea di Santa Sofia, che meraviglia», disse il tenente Dubosch, che non l'aveva mai vista. Un'improvvisa folata di vento gelido avvolse i due uomini, che rabbrividirono. Il tenente ne approfittò per dare una furtiva occhiata al proprio orologio, le quattro e cinquantacinque, ancora cinque minuti. Sicuro che il belga non si fosse accorto di quella manovra, si affrettò a cercare qualche altro argomento, per non far languire la conversazione. «Pochi viaggiatori in questo periodo dell'anno», osservò, guardando i finestrini del vagone letto. «Infatti», disse Poirot, «speriamo che non rimaniate bloccati dalla neve». «Accade qualche volta?» «È accaduto, sì, ma quest'anno l'inverno non ancora». «Speriamo bene, allora. I bollettini meteorologici dell'Europa sono brutti». «Bruttissimi. Nei Balcani, per esempio, è già nevicato parecchio, e minaccia di continuare». La conversazione rischiava di incanalarsi di nuovo su un binario morto, e il tenente Dubosch si affrettò a scongiurare il pericolo. «Domani sera, dunque, alle sette e quaranta sarà a Istanbul?» «Ja», fece Poirot, e soggiunse, anche lui disperatamente teso a tenere in piedi il discorso. «Ho sentito dire che la moschea di Santa Sofia è bellissima. Davvero magnifica». Sulle loro teste, la tendina di un finestrino fu scostata, e apparì il viso di una giovane donna. Osservava la pensilina senza abbassare però il vetro. Mary Debenham aveva dormito poco da quando il precedente giovedì era partita da Baghdad. Non era riuscita, cioè a prendere sonno né sul treno che l'aveva portata a Kirkuk, né nella cosiddetta rest house a Mosul, e nemmeno quell'ultima notte. Stanca a causa della forzata e snervante veglia nello scompartimento pur il riscaldato che occupava, aveva scostato la tendina per guardare fuori dal finestrino. Quella doveva essere Aleppo. Nulla da vedere, naturalmente, all'infuori di un lungo marciapiede scarsamente illuminato. Da un punto imprecisato proveniva un furioso vociare in arabo. Persone che litigavano, probabilmente. Quei due signori sotto il suo finestrino invece parlavano in francese. Uno era un ufficiale francese, l'altro un ometto con enormi baffi a punta, rivolti all'insù. Mary sorrise. Non aveva mai visto un uomo tanto imbacuccato. Vide poi il conduttore del vagone letto avvicinarsi ai due uomini. Per avvertirli che il treno stava per partire. Lo sentì consigliare cortesemente a Messier di salire nello scompartimento. L'ometto si tolse il cappello. Che strana testa, calva, a forma d'uovo, pensò Mary. Nonostante i gravi pensieri che l'angosciavano, la ragazza sorrise. Buffo davvero quel tipo. Il tenente Dubosch faceva ora il suo discorsetto di addio a Poirot. Se l'era preparato in testa da un pezzo. Era proprio un discorsetto molto forbito, molto cortese e molto adatto alla circostanza. Il signor Poirot, per non essere da meno, rispose adeguatamente. «In vettura, Messier!» ripete il conduttore. Il signor Poirot salì finalmente sul treno. Sembra lo facesse a male in cuore. Il belga agitò quindi la mano in atto di addio. Il francese si irrigidì sull'attenti e rispose con il saluto militare. In quel momento il treno, con un pauroso strattone, si mosse lentamente. «Enfin», mormorò a se stesso il signor Hercule Poirot. «Voilà, Messier!» disse il conduttore, con un ampio gesto teatrale per far osservare a Poirot la comodità e il comfort dello scompartimento assegnatogli. Indicò poi le valigie ordinatamente disposte. «Il necessaire l'ho messo là, guardi!» soggiunse. Quella mano teso aveva un altro significato. Poirot capì e ci mise una banconota piegata. «Merci, Messier!» Il conduttore divenne loquace e più che mai servizievole. «Ho io i biglietti del signore? Dovrebbe favorirmi anche il passaporto? Interrompe il viaggio a Istanbul, vero?» «Sì, ci sono molti viaggiatori, a quanto pare. No, Messier, ce ne sono solo altri due, entrambi inglesi. Un colonnello che viene dall'India e una signorina partita da Baghdad. Ha bisogno di qualcosa, Messier?» Poirot chiese una mezza bottiglia di acqua minerale. Imbarazzante salire in treno alle cinque del mattino, due ore prima dell'alba. Poirot pensava di non poter dormire a lungo raggomitolato come si era messo, in un angolo. Si era invece assopito quasi subito. Si risvegliò che erano le nove e trenta e si avviò subito al vagone ristorante a prendere una tazza di caffè caldo. Non c'era là che una signora, in quel momento. Certo la giovane inglese della quale aveva parlato il conduttore. Era alta, slanciata, bruna, sui ventotto anni. Nel modo in cui mangiava, come chiamò il cameriere per chiedere dell'altro caffè, c'era una sicurezza che rivelava l'abitudine al viaggiare e la conoscenza del mondo. E qui il Poirot, non avendo di meglio da fare, si divertì a studiare la sua compagna di viaggio, ma senza farsi scorgere. La giudicò una di quelle giovani donne capaci di badare a se stesse ovunque vadano. Doveva essere un tipo freddo, un po' altero. A Poirot non piacquero molto l'austera regolarità delle fattezze, né il delicato candore della pelle. Ammirava invece i bei capelli neri e ondulati, gli occhi grigi, quieti e impersonali. Ma lei era, decise infine Poirot dentro di sé, un po' troppo altera per definirla una jolie femme. Poi un altro viaggiatore entrò nel vagone ristorante. Era un uomo alto, fra i quaranta e cinquant'anni, asciutto e abbronzato, con capelli brizzolati alle tempie. Il colonnello che viene dall'India, si disse Poirot. Il nuovo venuto fece un lieve inchino alla ragazza. «Buongiorno, signorina Debenham». «Buongiorno, colonnello Arbutnot», permette. «Ma naturalmente, si accomodi». L'ufficiale si sedette e chiamò imperiosamente il cameriere, ordinandogli uova e caffè. Il suo sguardo si fermò un momento su Hercule Poirot, poi si rivolse altrove indifferente. I due inglesi non erano molto loquaci, si scambiarono solo qualche altra breve frase banale. Poi la ragazza si alzò e tornò nel proprio scompartimento. A colazione Poirot osservò che, di nuovo, si erano seduti allo stesso tavolo. Ora chiacchieravano un po' più animatamente. Il colonnello parlava del Punjab e di tanto in tanto faceva la ragazza qualche domanda su Baghdad, dove a quanto pare era facile comprendere lei era stata un'istitutrice in qualche famiglia. Dalla conversazione che seguì Poirot comprese che i due avevano scoperto di avere amici a comuni, la qualcosa li rese immediatamente meno sostenuti e, contrariamente all'uso inglese, quasi amici. Poi il colonnello le domandò se andava direttamente in Inghilterra o se si sarebbe fermata a Istanbul. No, vado direttamente in Inghilterra. Non crede che sia un peccato. Ho fatto questo stesso viaggio due anni fa e in quell'occasione mi fermai tre giorni a Istanbul. Capisco. Beh, le confesso che mi fa piacere, dal momento che neppure io mi fermo. A questo punto il colonnello fece un lieve inchino, un po' goffo, e arrossì leggermente. È sensibile a quanto pare il nostro colonnello, si disse Poirot divertito. La signorina d'Ebenham rispose che ne era contenta, ma con tono distaccato ora. Poi Poirot osservò che il colonnello la riaccompagnava nello scompartimento. Poirot si alzò ed uscì anche lui e li raggiunse nello stesso vagone. Poco dopo il treno passava nello splendido paesaggio del Tauro. I due inglesi dietro il finestrino guardavano ammirati e la signorina d'Ebenham improvvisamente sospirò. E Poirot la sentì mormorare. «Com'è bello qui. Vorrei... vorrei...» «Che cosa?» domandò il colonnello. «Vorrei potermelo godere, questo stupendo paesaggio». Arbutnot assunse un'espressione più russoluta e anche un po' incupita. Poi disse a bassa voce. «Magari lei non fosse implicata in questa faccenda». «Ssss! Stia attento, la prego!» «Nulla di male», disse il colonnello guardando contrariato Poirot. Poi aggiunse. «Insomma, non mi va genio che lei debba fare l'istitutrice». La ragazza rise, di un riso che si sarebbe detto un po' forzato. «Non deve dire una cosa simile». L'istitutrice calpestata e tiranneggiata è solo un mito ormai. Non si dissero altro. Il colonnello forse si vergognava ora del suo scatto. Il treno giunse a Conia, che erano circa le undici e trenta di sera. I due inglesi scesero a sgranchirsi le gambe e passeggiarono avanti e indietro lungo il marciapiede coperto di neve. Quanto a Poirot si accontentava di osservare dal finestrino la febbrile attività che animava la stazione. Trascorsa una decina di minuti, però, si disse che dopo tutto una boccata d'aria fresca gli avrebbe fatto bene. Scese a sua volta sul marciapiede e prese anche lui a passeggiare avanti e indietro. A un certo punto sorpassò la motrice e sentì alcune voci sommesse. Riconobbe subito chi fossero i due, che appena si scorgevano all'ombra di un carro a merci. «Mary», diceva Arbutnot, ma la ragazza lo interruppe. «No, non adesso, non adesso. Quando tutto sarà finito. Allora…» Discretamente Poirot ritornò indietro, piuttosto perplesso. Se non avesse sentito parlare il colonnello, Astento avrebbe riconosciuto in quella voce femminile tremante il tono sicuro, quasi freddo, adottato finora dalla signorina Debenham. La mattina seguente, poi, pensò che i due viaggiatori inglesi potessero avere addirittura abisticciato. Si parlavano appena, e la ragazza aveva un aspetto preoccupato e sofferente. Occhi cerchiati, come se avesse dormito male, faccia pallida e cupa. Erano circa le 14 e 30, quando il treno si fermò quasi improvvisamente. Dai finestrini si sporsero teste di viaggiatori curiosi o inquieti. Presso i binari si vedeva un gruppetto di uomini che parlavano fra loro, indicando qualcosa sotto il vagone ristorante. Poirot si affacciò a sua volta e domandò chiarimenti al conduttore del vagone letto, che passava correndo. L'uomo gli rispose, Poirot si ritrasse. Nel voltarsi, per poco non urtò contro la signora Debenham. Non si era reso conto che fosse alle sue spalle. «Che cos'è successo?» chiese la ragazza in francese. «Perché questa fermata?» «Nula di grave, mademoiselle, e qualcosa ha preso fuoco sotto il vagone ristorante. Ormai il principio di incendio è stato spento e si sta riparando il guasto. Stia tranquilla, non c'è alcun pericolo.» Lei fece un cenno brusco, come per dire che il pericolo non aveva alcuna importanza, e replicò. «Sì, sì, capisco. Ma è del tempo che mi preoccupo. Giungeremo certamente in ritardo.» «Jà, probabile», disse Poirot. «Ma non possiamo tardare. Questo treno dovrebbe arrivare a Istanbul alle sei e quarantacinque. E poi ci vorrà un'altra ora per attraversare il Bosforo e prendere l'Orient Express alle nove. Un paio d'ore di ritardo ci farebbero perdere la coincidenza.» «Jà, potrebbe anche succedere», disse Poirot. Guardò la donna con una certa curiosità. La mano che teneva appoggiata al finestrino era lievemente percorsa da tremiti nervosi, e anche le sue labbra tremavano. «E' proprio così importante per lei, mademoiselle?» domandò. «Importantissimo. Non posso assolutamente perdere l'Orient Express.» Gli voltò le spalle, e andò a raggiungere il colonnello Arputnot nel corridoio. La sua preoccupazione tuttavia era inutile. Dieci minuti dopo il treno ripartì, e arrivò a Aya da Passar con soli cinque minuti di ritardo. Aveva riguadagnato nel percorso la maggior parte del tempo perduto. Il Bosforo era agitato quel giorno, e Poirot non si godette molto la breve traversata. Giunto al porto di Galata, si fece portare direttamente all'hotel Tocatlian. Bentornati su Narrazioni senza importanza, e di nuovo tra le pagine della nostra inossidabile, insostituibile Agatha Christie. Come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Questo è il primo capitolo, insomma ci lancerà in questa avventura che penso sia abbastanza nota e conosciuta, ma sempre molto piacevole da ripercorrere. È una delle sue storie più celebri e più riportate anche sui vari media, e quindi spero che sia di buona compagnia anche per voi. Come sempre vi ringrazio per essere state in mia compagnia. Se volete sostenere questo progetto potete iscrivervi al canale, mettere un like, un commento, condividere il video. Potete venirmi a trovare anche su Instagram, Narrazioni senza importanza, e come sempre vi aspetto per il prossimo capitolo. Alla prossima!